Siamo a Castel San Pietro in una zona meravigliosa, tutta circondata dalle vigne e dal verde. Castel San Pietro sappiamo che piace a tutti perché è una bella natura, perché è un bel paese, perché ha un bellissimo moltiplicatore. Questa è veramente la fotografia reale di quello che si vedrà intorno a questa costruzione per sempre, essendo zona verde e dunque non edificabile, vigne comprese. Ogni appartamento ha il proprio ascensore che arriva sulla terrazza e vi direte, come mai sulla terrazza? Secondo me l'idea è veramente fantastica. Noi siamo entrati sulla terrazza da qua, in realtà c'è un'altra porta finestra che porta sulla sala con la chiave. Cosa vuol dire? Hai le bottiglie e la spesa, hai i pesi, sei direttamente in appartamento. Piazza in unizioni, cappa della bora, sembra marmo ma non lo è, ma è bellissimo al tatto, ha una cucina con questo color porcora che poi si può adattare a qualsiasi tipo di arredamento, il forno, la lavastoviglie, il frigo e congelatore. Porta d'entrata blindata, facciamo magari vedere che bello, qui sono anche gli spazi comuni. È tutto nuovissimo, è veramente molto molto curato. Avete tutti gli armadi a muro per il disimpedire. Un bellissimo bagno, anche questo. Bagno di servizio con doccia e possibilità di lavatrice e asciugatrice. La prima camera, la seconda camera e qui entriamo nella zona master. Ho questo bel bagno, specchio tondo, Corian per il mobile, Corian anche per la vasca. Ti chiederai, poi cosa c'è? In realtà c'è ancora un locale hobby, compreso nel prezzo, veramente interessante, e una generosa cantina, così come un parcheggio coperto e uno scoperto. E adesso la domandona, quanto costa? Chiamaci e lo saprai, ne vale la pena. Chiamaci e lo saprai, ne vale la pena.